Eccoci qua di nuovo in studio, è tornato a trovarci Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio, segretario del Partito Democratico. Mille altre cose, vediamo perdette. Baratoneta, no vabbè, questo non c'entra niente, la cosa l'ultima. Poi? Direttore del riformista, domani facciamo l'aggiornato del riformista a Napoli. Ci sarà Enzo De Luca e Ignazio Larussa come figure istituzionali. Chi intervista De Luca? De Luca lo intervista a Minzolini, mentre Ignazio Larussa a Ruggeri. Ma secondo me da De Luca ti puoi aspettare assolutamente tutto, quindi su www.riformista.it Mi consiglia di mandare una telecamera. Popcorn come se non ci fosse un domani, quindi va bene. Oggi però voglio ricordare. Lucia Mimbali e tanti altri bellissimi incontri. Voglio ricordare che Matteo Renzi è senatore, soprattutto segretario di Televiva. Così dico, sì. Domenica facciamo l'assemblea di Televiva. Si lavora più adesso che prima. Domenica, poi lo ricordiamo alla fine della nostra intervista, così chi vuole sa che c'è l'appuntamento. Crosetto l'ha sentito stamattina? Secondo me ha fatto un bel discorso in teoria. Ha raccontato come deve essere la giustizia, garantista. Poi Crosetto a me piace, è un uomo delle istituzioni, mi sembra molto solido. Mi sento tranquillo con lui, ministro della difesa. Dopodiché c'è un problema. Se dici che c'è qualcosa che non va nella giustizia e sei al governo, devi cambiare le cose. Non è che puoi sparare in aria una minaccia o comunque evocare un problema e poi bloccare la riforma della giustizia. Tant'è che io mi domando, ma perché Giorgia Meloni... Si, lei ha detto fa l'influencer, fa dei post bellissimi, favolosi, ha scritto lei. La Meloni ha una capacità di gestire i media e i social network che io apprezzo molto e ammiro, perché bisogna anche saper riconoscere quando gli altri sono bravi. Dopodiché un presidente del Consiglio non lo valuti da come scrive un tweet, ma da come scrive una legge sulla gazzetta ufficiale. Cosa è cambiato sulla giustizia da quando c'è Giorgia Meloni? Perché ormai, ridendo e scherzando, sono passati 14 mesi. E dice fatela questa riforma. Ma io non vedo una riforma in generale. Cioè noi stiamo a parlare dei complotti e contemporaneamente c'hai il pane che costa di più di un anno fa, il latte che costa di più di un anno fa, la benzina hanno aumentato le accise, i mutui non per colpa della Meloni, ma certo la situazione economica porta una famiglia che ci segue da casa a dire sì, voi continuate a parlare dei massimi sistemi, ma io spendo di più col mutuo se l'ho preso variabile. Ho un problema che quando faccio il piano mi costa di più di un anno e mezzo fa, ho un problema per cui vado al supermercato e il carrello tricolore non è che funziona. Il carrello tricolore finisce col conto al verde, il tricolore va via al bianco e il rosso rimane al verde. Però mi faccio tornare un attimo su Crosetto, perché la sua idea, anche rispetto alla magistratura, e il fatto che sia necessaria una riforma, la conosco, la conosciamo. Io però le chiedo nel merito delle parole del ministro Crosetto, cioè lei quando ha letto l'intervista? Ha letto in quella intervista ciò che oggi il ministro Crosetto ha raccontato in aula, e cioè banalmente mi riferivo a delle riunioni pubbliche nelle quali sono state dette cose che io considero gravissime, sto sintetizzando, ma questo è quello che ha detto il ministro della difesa Crosetto. Ve lo chiedo perché c'era una seconda parte di quell'ultima frase di Crosetto, e l'ultima domanda di Crosetto, quella relativa appunto alla giustizia, in cui Crosetto diceva che l'opposizione giudiziaria, quella che lui considera l'unica pericolosa per il governo, lavorava al fine di combattere la deriva del governo di destra, e che conoscendo lui il paese pensava che i tempi fossero quelli che guardano alle europee, cioè prima delle europee succederà qualcosa. Lei quando ha letto quella frase, cosa ha pensato? Cioè che a cosa si riferisse Crosetto e ha risposto su questo Crosetto? Queste cose se le dice il ministro della difesa, io condivido la sua analisi, sono molto pesanti, perché il ministro della difesa non è un passante, non è un senatore dell'opposizione, non è una conduttrice di un programma di informazione, è il ministro della difesa. Proprio per questo rendere conto di quella parte della sua intervista deve chiederlo a Crosetto, perché solo Crosetto può rispondere nel merito. Io le dico quello che penso io. È vero o non è vero che una parte della magistratura, una piccola parte, bella rumorosa ma piccola, ha delle idee politiche? Sì. Mi colpisce che quando il capo culturale di quell'area, si chiama Nello Rossi, è il direttore della rivista di magistratura democratica, disse a proposito di me che intorno alle mie idee bisognava stendere un cordone sanitario, se io rubo devo essere processato, ma se intorno ai miei comportamenti e alle mie idee va steso un cordone sanitario, per me questa è una frase gravissima, tant'è che io ho fatto sentire la mia voce, poi io a differenza degli altri faccio ricorsi, faccio denunce, rompo un po' le scatole, ma alla fine la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale nelle mie vicende hanno dato ragione a me e questo mi basta, è per dire dunque che c'è una parte della magistratura che ha delle tentazioni di interventismo politico, c'è. Dall'altro lato però c'è anche un governo, su questo manca un ragionamento di un galantuomo come Crosetto, che talvolta sembra preoccuparsi molto più degli slogan che non della sostanza, perché se non fai una riforma, con quale credibilità ti lamenti delle cose? Aggiungo, una parte di questo governo ha una concezione, denota una concezione proprietaria delle istituzioni. Ora io voglio dire, ma come ne è venuto a mente all'Oldo Brigida di fermare un treno? Sapevo che arrivava a Ciampino lei. A parte che abbiamo inaugurato la freccia rossa che si ferma a Ciampino, non era mai successo nella storia. Ma com'è possibile? Io sono uno di quelli che dice, usa l'auto blu, usa l'elicottero, usa l'aerio di Stato, c'è una legge che la provvede. Dice il ministro che possono far tutti. Allora io prendo la palla al balzo e dico a chi ci ascolta, a parte che io vivo in freccia rossa, e quindi le garantisco che i ritardi, non so quanto lo prende lei, io lo prendo perché sulla tratta Firenze-Roma è comodissimo. Anche su quella Roma-Napoli. Roma-Napoli, Firenze-Milano, il treno, freccia rossa, è una termo, ultimamente i ritardi sono aumentati sempre. Ma se lei prova a fare una giratina negli 11 vagoni del freccia rossa, quando c'è il freccia rossa 1000 sono 8, e si mette a chiedere, scusate, qualcuno di voi ha mai provato a bloccare il treno perché era in ritardo e doveva andare a lavorare? Diciamola all'obbligida, chi prende il freccia rossa non lo prende perché gli piacciono i trenini, lo prende perché va a lavorare. Magari va una volta in vacanza, ma di solito lo prende perché va a lavorare. Non è possibile fermare il treno perché sei in ritardo. L'obbligida, facci un piacere, taci, lo dico nel tuo interesse, perché tutte le volte che cerchi di spiegare che è successo ti scavi la buca da solo, quindi per piacere. È l'idea di dare una... che le istituzioni siano tu, le istituzioni hanno delle regole. La concezione proprietaria del ruolo, dell'istituzione. Può prendere l'auto blu, l'aereo, se c'ha delle condizioni aereo di Stato, se ha la firma del sottosegretario alla Presidenza, può prendere l'elicottero, può fare come vuole. Non può bloccare un treno di pendolari o un tre freccia rossa. Questo è il concetto, cioè i cittadini devono essere rispettati. E mi aiuta a ricordare, alla fine dell'intervista dobbiamo tornare un attimo su Crosetto, ma solo alla fine, perché adesso voglio passare da un ministro all'altro. Dunque, Crosetto, l'obbligida del Mastro, che non è ministro e sottosegretario, però stiamo sempre parlando di che idea hai del tuo ruolo. Dal mio punto di vista, ed è su questo che voglio sentire la sua opinione, io so che lei è un garantista, quindi un rinvio a giudizio è un rinvio a giudizio, ci sono tre gradi di giudizio, figuriamoci. Però c'è una questione che riguarda la percezione del mio ruolo, ciò che io devo o non devo fare, e quindi anche un eventuale passo indietro rispetto a qualcosa che non ha funzionato. Più che chiederlo a Del Mastro, andrebbe chiesto a Giorgia Meloni, perché colei che difende Del Mastro è Giorgia Meloni. Del Mastro è un ragazzo, un sottosegretario, un avvocato, che è cresciuto con Giorgia Meloni, come pure Giovanni Donzelli, che è l'altro personaggio di questa vicenda. La vicenda è inqualificabile. Del Mastro la sera cena con il coinquilino Donzelli, Del Mastro è sottosegretario, Donzelli è il capo politico, lo era prima che arrivasse a Giorgia Meloni, e si parlano, e sostanzialmente Del Mastro passa un documento che lui aveva come membro del governo. Non dica così perché io a Del Mastro l'ho chiesto più volte, Del Mastro si è anche un po' arrabbiato con me, perché io insistevo sul fatto che avevo una memoria prodigiosa, perché Del Mastro sostiene che ha domanda, ha risposto, ma che non ha passato tanto. In ogni caso. No, perché è il punto di rimento. Mandiamolo alle trasmissioni televisive, a fare i cruciverba con Bartezaghi, perché uno che ha questa memoria è fantastico. Però al di là della cosa in sé, è evidente che non si fa così, è evidente che questo non è il metodo giusto. Le istituzioni sono di tutte, non ti fermi il treno quando ti interessa, non passi i documenti che devi passare. Quello che noi abbiamo sempre sostenuto però è che nel rapporto che c'è tra queste persone, se Giorgia Meloni dice ehi, dimettiti, questi si mettono sull'attenti e si dimettono. Se Giorgia Meloni dice loro rimani, questi rimangono. Perché in Fratelli d'Italia c'è una concezione dove non è come nel PD, io ne so qualcosa, il capo dice una cosa e tutti si dividono in 17 correnti e 18 spifferi. L'Italia Viva va diversamente. L'Italia Viva è più piccolina. In Fratelli d'Italia hanno un sistema, ma l'ha sempre sostenuto la Meloni, quando veniva qui, prima di fare la Presidente del Consiglio, non era abituata a meccanismo di correnti interne. Ecco, se la Meloni regge Del Mastro è perché lei vuole che Del Mastro rimanga. Perché? Perché? Che idea si è fatto lei? Io penso che loro si sentono. È una forza, è invece il sintomo di una debolezza? È il sintomo di una squadra che è arrivata al potere dopo anni di opposizione e che quando ha il potere pensa di poter far tutto. Che ci sta anche? Quello che a me sconvolge e che ho provato a dire giovedì scorso a Giorgia in aula è, vi rendete conto che non vi state preoccupando di chi vi ha eletto? Cioè, quando io dico del prezzo del pane o del prezzo del latte, sto cercando di riportare la dimensione popolare, non populista, nella politica. perché se tu stai governando e aumentano gli stipendi, diminuiscono i prezzi, la benzina va giù e il potere d'acquisto va su, tutto bene. Oggi è uscito un rapporto del Censis, il rapporto del Censis, perché annualmente c'è lo stato del paese fatto dal Censis, è una lettura triste in questo caso, ma molto bella. Abbiamo una emigrazione che fa paura. E emigrano i laureati, cioè la percentuale tra i 25 e i 34 anni di quelli che se ne vanno dall'Italia e che sono laureati, nel 2018 era del 33%, nel 2022 è del 45%. Stiamo tirando su una generazione di gente che qui si laurea e poi se ne va. E parliamo di immigrazione con i toni da bar dello sport. Abbiamo una situazione economica in cui il cielo medio fa fatica e la Meloni sta dietro ai trenini di Lollo e ai dossier di Donzelli del Mastro. Ecco, detto questo, io non chiedo le dimissioni di Del Mastro perché è stato rinviato a giudizio. Perché se lo facessi sarei come tutti quelli che sono giustizialisti. Cioè, il rinvio a giudizio non è una sentenza di condanna. Sì, ma c'è un tema di adeguatezza, di inadeguatezza per cui uno dice... Ma per me sono incoerenti e inadeguati. incoerenti perché tutto quello che avevano detto che avrebbero fatto su tutto hanno cambiato idea. La Meloni ha cambiato idea sulla Nato, ha cambiato idea sull'Euro. In Parlamento mi ha detto no, io non ho mai detto... Ci sono centinaia di video che dimostrano il contrario. Hanno cambiato idea sulle trivelle, hanno cambiato idea sul MES, hanno cambiato idea su tutto. Però loro dicono l'economia va bene, cresciamo, abbiamo il record dell'occupazione. Ma voi avete l'impressione che per le famiglie le cose stiano meglio rispetto a un anno fa? Perché per me non è così. Io sono tranquillo, contento, sto bene, io... Vabbè, facciamo parte di una categoria privilegiata, evidentemente. Se noi guardiamo i numeri delle famiglie, se noi guardiamo i consumi del supermercato... Non ho capito però se del Mastro si deve dimettere o no. Non per il mio giudizio, se io fossi stato del Mastro mi sarei dimesso otto mesi fa quando è venuta fuori questa roba. Cioè, a fronte dell'incidenza. Se uno mi dice devi dimettersi... emergono notizie per cui ci sarebbe stata una grande pressione del Mastro che chiama i dati, che chiede i documenti. Se lei mi domanda è giusto che del Mastro quando è uscita la vicenda abbia pensato alle dimissioni? Ammesso che ci abbia pensato. Io le dico che fossi stato nelle sue condizioni mi sarei dimesso perché uno non passa le informazioni. Se però uno mi dice come fanno i 5 Stelle si deve dimettere perché è rinviato a giudizio allora no, allora difendo il diritto del sottosegretario perché può sembrare una questione di Lana Caprina ma è una questione molto importante. è la sentenza che fa la differenza non è un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio. Questo garantismo io lo applico con gli avversari perché gli altri non l'hanno mai applicato con me. Perché fratelli in Italia facevano le manifestazioni contro me. Ricordo la questione i grillini Occasioni per il paese Expo 2030 era un'occasione? Caspita però la verità è che su Expo 2030 abbiamo fatto una figuraccia per colpa di Roberto Gualtieri sindaco di Roma Giorgia Meloni presidente del Consiglio Antonio Tajani mi spiace dirlo ma il ministro degli esteri che porta a casa 17 voti per l'Italia è una cosa che non si è mai vista mi piace questo suo dico non dico e poi i ginearaggi proviamo ad essere più precisi sono quattro responsabili cioè i 5 stelle che hanno detto di no le Olimpiadi si sono inventate la candidatura Expo perché da lì è cominciata lei dice l'errore questa è la verità nessuno ha il coraggio di dire la verità fino in fondo noi abbiamo fatto una candidatura sull'Expo che non aveva senso perché l'abbiamo fatta? perché avevamo nel 2015 grazie a Letizia Moratti si era vinto l'Expo e l'avevamo organizzato devo dire benino non era andata così male l'Expo del 2015 non chiedi di riospitare l'Expo due volte dopo perché ogni 5 anni nel 2020 nel 2025 nel 2030 hanno chiesto tutti noi abbiamo detto se siete convinti andiamo quando ti accorgi che hai 17 voti che gli altri sono più forti perché ha stravinto l'Arabia Saudita ma noi siamo arrivati i terzi su tre non è che dice i Petro Do ci ha superato anche la Corea del Sud noi siamo arrivati tre terzi su tre e tu ti hai a dire siamo sul podio caspita eravamo in tre più che medaglia di bronzo era la faccia di bronzo quella del ministro che dice beh però non è andata così male aggiungo è il segno della irrilevanza di Giorgia Meloni guardi oggi è di oggi la notizia perché adesso è che l'ha gestita Giorgia Meloni con la quale tra l'altro sull'Arabia Saudita avete fatto quella siparietto diciamo perché lei mi ha attaccato sull'Arabia Saudita dicendo aiutami sul petrolio visto che c'hai gli amici lì dimenticando il piccolo particolare che le accise non le ha aumentate Bin Salman no no sono tutta Romano le accise le ha sempre avute il governo italiano la Meloni le ha aumentate rispetto a Draghi no perché così lo diciamo perché le accise non vanno a Riad le accise vanno a Roma però lei che ama le battute la battuta era perfetta fantastica ma io infatti dico che lei è una battutista meravigliosa io non le rispondo per carità di parola perché non voglio in sede parlamentare ma come dire talvolta capita di scambiarci delle battute o di fare delle frasi ma questo è fantastico poi c'è la sostanza che la gente paga più la benzina perché la Meloni ha aumentato le accise la Meloni ha dato 892 milioni di euro alle squadre di calcio e però aumenta l'IVA sugli assorbenti aumenta l'IVA sui pannolini detto questo tornando all'Expo noi abbiamo perso dalla Arabia abbiamo perso dalla Corea e siamo arrivati i terzi non parliamo dell'Expo per carità di patria per me è una figuraccia ho detto chi sono i colpevoli parliamo della situazione internazionale delle nomine che sono in corso c'è da nominare la Presidente o il Presidente della Banca Europea degli Investimenti ci sono tre candidati una spagnola che si chiama Calvino si chiama Calvino come l'amato poeta di cui l'amato scrittore di cui ricorre il centenario la Vestager che è una commissaria danese e il nostro Daniele Franco come nelle barzellette c'è una spagnola c'è una danese e c'è un italiano su tre sapete come arriviamo noi terzi sempre il podio perché vince la Calvino la medaglia di bronzo seconda seconda se l'è giocata fino alla fine la Vestager e Franco arriva terzo su tre allora questa idea che noi arriviamo sempre terzi su tre un campanellino d'allarme specie a chi dice ma l'hanno appena politico punto è o ha appena detto che Giorgia Meloni è la donna più influente perché è una donna concreta ha detto una cosa un pochino diversa politico ha detto che la Meloni tra i membri non ha detto che è la personalità politica più importante no però ha detto che tra le personalità influenti ha detto che lei è la persona più concreta è un giornale molto importante una volta aveva detto che era Giuseppe Conte l'uomo più importante europea di un importante giornale americano è una cosa molto importante e ha dato dei premi a tante persone il presidente del consiglio italiano li ha sempre valutati bene sempre detto che erano bravi ne ha messi tanti i presidenti del consiglio non ne cito tutti una volta ha detto che Conte era il più influente di tutti io ho detto pensa come sono messi allora la Meloni ha fatto un ritratto politico dot EU dicendo Giorgia Meloni è molto brava perché camaleontica cioè diceva di voler uscire dall'euro e rimane nell'euro diceva di voler uscire attaccare la NASA e rimane la NASA sì però questo lo ha tradotto nel fatto che è una persona concreta fantastico ma io sono contento di questo dopodiché arriviamo sull'Expo terzi su tre sulla Banca Europea degli Investimenti terzi su tre ragazzi non si colta una cipalippa in Europa per utilizzare un termine diplomatico Domenica Assemblea Nazionale Italia Viva a Roma posso fare una cosa soltanto su questo al volo c'è uno che invece contava in Europa che si chiamava Mario Draghi e che ha detto e io sono tanto felice di aver mandato a casa Conte per portare Draghi Draghi ha fatto un intervento al libro di Cazzullo straordinario e ha detto o l'Europa diventa uno Stato gli Stati Uniti di Europa o non andiamo da nessuna parte io farò di tutto perché alle prossime europee il giorno dopo noi facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto nel 2021 portando Draghi al governo a me piacerebbe da morire che portassimo Draghi alla guida dell'Europa perché Draghi sa che cos'è l'Europa la Meloni arriva terza tre su tre due bronzi e una faccia di bronzo Matteo Renzi grazie per essere stato con noi le volevo fare una domanda su Calenda che la faccio? ma non importa va bene così parliamo di Draghi dai che è meglio ci vediamo dopo la pubblicità grazie grazie a tutti